Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, rubrica di approfondimento politico che in questi giorni è dedicata soprattutto alle riflessioni post-voto in Abruzzo. Conosceremo anche più da vicino i nuovi consiglieri regionali eletti premiati dagli elettori. Oggi ospite nei nostri studi, dopo aver sentito ieri il presidente del Consiglio regionale uscente Lorenzo Sospiri, è un altro candidato che ha ottenuto un ottimo risultato nella circoscrizione di Pescara. Antonio Di Marco del Partito Democratico. Buonasera Di Marco. Buonasera a voi. Già presidente della provincia, presidente dei borghi più belli d'Abruzzo e Molise, autore di tante iniziative anche culturali, insomma tra gli animatori, fondatore e animatore del premio Maiella. Antonio Di Marco è tornato alla politica attiva appunto dopo aver guidato la provincia di Pescara. Ecco, si aspettava questo ritorno di sintonia con il suo elettorato che è quello diciamo delle zone, lei è stato sindaco di Abbateggio, ai piedi della Maiella che però si è speso anche nella parte più metropolitana della provincia di Pescara. Quanti grazie le deve dare e soprattutto a chi? Ma intanto a tanti generosi che hanno voluto in qualche misura consentire a me un'esperienza nuova, in questo caso in regione, vista anche l'attività intensa fatta in questi anni. Davvero devo dire grazie ai tanti che mi hanno sostenuto perché ovunque ho avuto generosità, disponibilità, attenzione e soprattutto hanno scommesso su una rinascita vera e propria del mio ruolo in politica e quindi di questo ne do atto a ognuno e so di assumere una responsabilità piena perché ci si aspetta molto rispetto a questo impegno ulteriore. Da un lato la soddisfazione personale di vedere, accompagnata dal sostegno degli elettori, sua candidatura, dall'altro la delusione per un risultato che non ha visto premiare il centrosinistra e Luciano D'Amico. Dal punto di vista abruzzese, poi parleremo della provincia di Pescara, qual è la sua lettura del voto? C'è già un'analisi su quelle che sono state le criticità di questa campagna elettorale, quali sono state anche le cose belle che in questi giorni, in queste settimane avete in qualche modo vissuto insieme alla comunità di questo campo largo? Intanto la cosa più bella, la cosa più importante che abbiamo potuto mettere in campo è la candidatura del professor D'Amico che ha detta di tutti, anche di chi non lo ha potuto sostenere per ragioni anche di appartenza politica e ideologica, rappresenta un unicum nello scenario politico regionale. Avrebbe meritato di fare il presidente della regione perché ha tutte le caratteristiche per comprenderne le ragioni vere per cui l'Abruzzo ha un grande bisogno di rinascita e soprattutto di rilancio a livello territoriale, perché il professor D'Amico ha queste caratteristiche e lo dimostrerà insieme a tutti quanti noi, anche dalla parte di chi oggi ha il ruolo di controllo della gestione dell'ente da parte della giunta Marsilio prossima. La cosa più importante è che il centro-sinistra, a mio giudice, avrebbe dovuto decidere questo già un anno fa, già l'anno scorso nei momenti iniziali di febbraio-marzo doveva già decidere la candidatura del professor D'Amico e mettere in campo una strategia territoriale diffusa ovunque, così come è stato poi negli ultimi 30 giorni. Ma c'era poco tempo a quel punto per arrivare a tessere quelle relazioni utili perché nel frattempo gli amministratori locali, ma anche il mondo economico, quello imprenditoriale, quello sociale, si era già seduto rispetto a un progetto di rinnovo dell'attuale giunta regionale di centro-destra. Quindi il lavoro fatto del professor D'Amico è straordinario e poi quella vicenda della selezione della classe dirigente che doveva avvenire molto tempo prima, non negli ultimi secondi quasi della chiusura delle liste. Le liste si potevano fare benissimo per tempo e io stesso, la mia candidatura arriva soltanto dal 15 gennaio scorso, quindi c'è sempre poco tempo quando sei un candidato che arriva al fotofinish a essere candidato. Questo lo poteva fare meglio il centro-sinistra e soprattutto il gruppo uscente dell'opposizione in regione, a mio giudizio, avrebbe dovuto cucire meglio i rapporti sul territorio e offrire dei temi importanti sui quali avviare poi la campagna elettorale che abbiamo appena concluso. Insomma, dovevamo essere più decisivi nelle azioni anche di proposta a livello territoriale e regionale già con l'opposizione uscente e poi il candidato D'Amico avrebbe fatto il suo lavoro benissimo come sa fare il professor D'Amico da sempre in tutto quello che ha fatto. Chiaro. Su scala territoriale, lei è stato vicino a molti sindaci di tutto l'Abruzzo e anche del Molise in questi anni in cui è stata la guida dei borghi più belli, che sono generalmente piccoli centri, nelle cosiddette aree interne. Ecco, perché hanno premiato di più il centro-destra mentre il centro-sinistra è andato meglio nelle città? Intanto perché il centro-destra in questi anni con la scelta di affidare alle varie finanziarie ogni fine anno la possibilità ai consiglieri regionali di errorare proprio letteralmente risorse in modo copioso e anche indistinto, perché c'è stata anche una sinergia da parte dell'opposizione che avrebbe evitato fortemente, ha fatto immaginare che anche i 30 mila euro date a un comune piccolo potesse significare una grande risorsa, ma non ha offerto strategie di sviluppo come invece immagino che sia necessario fare in questa legislatura, se vogliamo veramente un Abruzzo diverso e vincente anche rispetto alle sfide nazionali, rispetto al confronto che si fa spesso tra le regioni d'Italia. Ecco, credo che questo sistema abbia fatto pensare che ci fosse attenzione, disponibilità, generosità da parte della Giunta regionale a dare contributi per manifestazioni, piccole cose che hanno fatto sentire grandi, piccoli centri, ma che in realtà non hanno creato le infrastrutture necessarie, non hanno creato per esempio un grande progetto di sviluppo turistico territoriale che possa essere veramente competitivo a livello internazionale, non ha creato le condizioni per intervenire per esempio sulle case della salute, questo discorso della sanità e di prossimità, non mi pare oggi che siamo competitivi, il PNRR consente queste risorse e non c'è nulla di concreto, fatto e riconoscibile. Insomma, ci sono delle questioni che hanno riguardato sicuramente un'attenzione ai piccoli centri, ma da un punto di vista non della strategia di sviluppo territoriale, che è quello che piace a me fare e raccontare. Come i borghi più belli noi abbiamo fatto anche tante iniziative, ma le abbiamo fatte però in assenza di contributo regionale, perché se pensiamo al Masterplan di D'Alfonso che diede 3 milioni e mezzo di euro ai 25 comuni dell'Abruzzo, la giunta Marsiluscent ha dato zero fondi per gli investimenti nei borghi più belli d'Abruzzo, quindi questo è un po' il termometro che io ho a disposizione e di cui tratteremo anche con la nuova giunta regionale. E poi non nascondo che nelle grandi città c'è una capacità maggiore di densità, di riflessione anche politica, di tipo anche nazionale e quindi abbiamo anche saputo raccontare con più facilità, probabilmente siamo stati anche un po' più avvantaggiati rispetto a quella che è l'opinione pubblica generale, che ha saputo cogliere la differenza tra noi e il centro-destra. E quindi a Pescara per esempio abbiamo un dato significativamente importante che ci fa non solo di buon auspicio, ma ci fa ben sperare e ben programmare le prossime amministrative comunali. Su quello io voglio sentirla perché non solo c'è un risultato buono della coalizione a Pescara in città e in provincia, ma soprattutto c'è un risultato che attesta la centralità del Partito Democratico in questa coalizione, perché insomma compensa e supera i problemi che ha avuto il Movimento 5 Stelle e il vostro risultato. Eleggete due consiglieri, assieme a Lecce anche Antonio Blasioli. Questo perché? Perché in provincia di Pescara c'è un maggior malumore da parte dei cittadini elettori rispetto al centro-destra che governa il capologo in grandi città come Montesilvano e la provincia o perché il centro-sinistra in particolare, il Partito Democratico, ha una classe dirigente riconoscibile presente sul territorio? Io penso proprio questa seconda considerazione, cioè noi siamo quelli che quando amministrano, amministrano per davvero bene e sanno intersecare esattamente le esigenze e le soluzioni sul territorio. Ecco, noi dobbiamo recuperare ancora maggiore coraggio nelle scelte strategiche che riguardano il territorio. Pescara è un segno importantissimo, quello del 28% del consenso del PD e così come la provincia di Pescara al 24. Sono dati che fanno riflettere rispetto a un governo di centro-destra con una rappresentanza forte come quella di Fratelli d'Italia che non ha retto il confronto con noi e questo giustifica anche la scarsa adesione così come avrebbero pensato potesse accadere e quindi il PD è più apprezzato, più riconosciuto ma il PD stesso deve fare tesoro di questo risultato per rafforzare ulteriormente la propria capacità attrattiva sui territori. Ecco, non mi soddisfa questo dato perché so che possiamo fare molto di più ma lo dobbiamo fare tutti sempre e bene perché la classe dirigente del PD a volte si ferma più a raccontare e a commentare i dati che non a mettere in campo nuove strategie che ci vedono invece utili al territorio. Io questo vorrò fare, vorrò in qualche modo stimolare a livello di partito e a livello anche di gruppo consigliare prossimo in regione. Nei prossimi cinque anni a questa domanda avrà dato sicuramente già risposta in campagna elettorale. Quale sarà la prima proposta di legge a firma di Antonio Di Marco, quella su cui pensa di poter condurre al traguardo un risultato dei tanti che si promette nella sua attività di consigliere? Ma intanto noi abbiamo il tema del turismo che in Abruzzo ha necessità di una visione nuova all'altezza dei tempi. Non possiamo più rincorrere solo le fiere e non possiamo pensare per esempio di attrarre turismo internazionale se non finanziamo letteralmente il recupero e la ristrutturazione delle strutture ricettive presenti in Abruzzo. Noi abbiamo necessità per esempio di aiutare questo settore, io me lo aspettavo già dopo il Covid, una legge di finanziamento a sostegno degli albergatori e degli operatori turistici affinché loro siano in grado di riorganizzare il proprio settore ed essere poi la regione capace di attrarre turismo che ha questo tipo di esigenza, di luoghi adeguati e performanti. Ecco su questo io sarò molto determinato, così come sul settore dell'agricoltura che non possiamo sottacere il fatto che non ci siano stati al momento fondi del PNRR consentiti al settore. E poi noi vogliamo anche sempre consentire all'Abruzzo una riconoscibilità rispetto ai propri prodotti di qualità ma dobbiamo sostenerne le ragioni degli agricoltori che sono ragioni vere, oggettive perché i costi sono esorbitanti rispetto a quella che è la loro attività quotidiana e su questo ci dobbiamo mettere d'accordo. Se vogliamo una regione che punti all'ambiente, alla cultura, alle risorse tipiche, noi questi settori li dobbiamo assolutamente sostenere e difendere. C'è un tema che lei ha affrontato da sindaco, da animatore del premio Maiella, insomma anche da componente di una realtà rilevante come quella del parco e penso che sarà un tema che tornerà spesso in primo piano nei prossimi cinque anni. Il rapporto tra la protezione ambientale e lo sviluppo economico. Sarà una legislatura calda secondo lei Di Marco, dal borsacchio in poi? Direi proprio sì, sul borsacchio vi avrei affrontato diversamente la questione, l'opposizione doveva fare opposizione fino in fondo e doveva essere convinta dell'azione di sostegno del borsacchio perché se noi continuiamo a distinguerci su questi temi per i quali a livello mondiale tutti sappiamo che la difesa dell'ambiente è un bene imprescindibile, vuol dire che noi non vogliamo il bene dei nostri territori, vogliamo il bene della nostra parte politica che non ha nulla a che vedere col futuro delle prossime generazioni. Quindi su questi argomenti dobbiamo essere tutti convinti di difenderne le ragioni. L'ambiente non può essere un'etichetta che qualcuno si vuole intestare ma deve essere un valore che tutti dobbiamo difendere. Io su questo impegnerò il mio tempo anche per far capire e capire le ragioni degli altri, insomma, perché dobbiamo trovare il punto di equilibrio affinché tutto funzioni come è giusto che sia. Per esempio i parchi vanno sostenuti fortemente, i parchi non hanno oggi la strategia di insieme che invece servirebbe mettere in campo. Noi abbiamo tante realtà naturalistiche presenti in Abruzzo che però insieme non hanno mai determinato per responsabilità varie un unico prodotto ambiente che sia coeso e promosso a livello internazionale. Anche su questo ne dobbiamo puntare. Io punto sempre sul discorso del rilancio dell'Abruzzo fuori dai confini regionali perché è il tema prevalente che ci può far vedere cose nuove e importanti anche dal punto di vista socio-economico. Un minuto e mezzo prima di salutarci per tornare su Pescara perché insomma già abbiamo i riflettori accesi sulle prossime comunali come lei già anticipava. Cosa dovrà fare Carlo Costantini per vincerle queste elezioni secondo lei Di Marco? Ma intanto Carlo Masci vuole togliere il T-Red a 24 ore dal voto potremmo dire e penso che sia un errore anche politico averlo proposto. Carlo Costantini invece deve adesso iniziare quella cucitura che è tipica di chi sa fare le cose perché lui le sa fare in quanto è stato anche sindaco di una realtà importante della zona metropolitana Chieti-Pescara e non solo le esperienze che ha avuto in Parlamento e in Consiglio regionale ma deve sapere che da oggi, anzi da ieri deve aver iniziato un percorso di connessione dei vari ambiti territoriali della città di Pescara e ridare funzione e soprattutto prospettiva a ciascuna realtà sociale, economica e imprenditoriale perché Pescara merita di più, Pescara sarà la realtà nuova della grande Pescara poi una responsabilità ulteriore di cui si dovrà occupare questa legislazione prossima per i prossimi tre anni quella comunale intendo e lì noi dobbiamo fare anche la differenza perché anche lì il Consiglio regionale deve fare molto di più perché in questi anni ha pensato a rinviare a fare tatticismo politico, invece la nuova Pescara parte con le elezioni comunali prossime di giugno e da lì nascerà un programma di lavoro intenso, quindi Carlo Costandini queste capacità le ha e le può mettere in campo, noi come Partito Democratico faremo tutto il lavoro che serve e metteremo in campo le candidature migliori per fare sì che si torni a governare Pescara che ha una grande pagina di storia ancora da scrivere che serve a Pescara ma serve a tutto l'Abruzzo Bene, grazie Antonio Di Marco, complimenti ancora per il bel risultato elettorale e naturalmente buon lavoro per i prossimi cinque anni Grazie, a presto Arrivederci Grazie 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 Grazie.